Signori e signore buongiorno, buona domenica, benvenute, benvenuti, accomodatevi, iniziamo subito. Siamo estremamente emozionati da rivederci qui due anni dopo, di nuovo all'auditorium Rogers in piazza della Resistenza a Scandicci. Ma secondo me è corretto che io vi dica una cosa e per farlo userò le parole dello storico israeliano Harari che nelle sue lezioni sul ventunesimo secolo ad un certo punto scrive la maggior parte delle scuole privilegia l'insegnamento di alcune specifiche conoscenze, tuttavia perché non abbiamo alcuna idea di come saranno il mondo e il mercato del lavoro del 2050, non sappiamo davvero quali particolari abilità si renderanno necessarie. Dunque che cosa dovremmo insegnare? Molti esperti di pedagogia ritengono che le scuole dovrebbero impostare la didattica sulle quattro C, critica, comunicazione, collaborazione e creatività. Più in generale le scuole dovrebbero ridurre le conoscenze tecniche e specifiche e sviluppare le abilità utili alla vita in generale. La più importante delle quali sarà la capacità di gestire il cambiamento, di imparare nuove cose e di mantenere il controllo in situazioni di emergenza. Per mantenere il passo con il mondo nel 2050 avrete bisogno non solo di inventarvi nuove idee e prodotti, avrete soprattutto bisogno di reinventare continuamente voi stessi. Questa metaforfosi radicale può trasformare l'elementare organizzazione esistenziale rendendo la discontinuità la caratteristica più saliente della realtà futura. Per rimanere rilevanti, non solo economicamente ma soprattutto socialmente, avrete bisogno di continuare a imparare a reinventare voi stessi sia quando siete giovani sia no. Per sopravvivere e prosperare in un mondo del genere avete bisogno di grande flessibilità mentale e cospicue riserve di equilibrio emotivo. Occorrerà abbandonare continuamente parti della nostra migliore competenza ed essere sereni nell'ignoto. Purtroppo insegnare ai bambini ad accogliere l'ignoto e a mantenere il loro equilibrio mentale è di gran lunga più difficile che insegnare loro un'equazione di fisica o le cause della prima guerra mondiale. Non si impara ad essere resilienti leggendo un libro o partecipando a un convegno. La rivoluzione industriale ci ha lasciato in eredità la teoria educativa della catena di montaggio. Oggi non funziona più. Per correre veloci non caricatevi di bagagli. Lasciate perdere tutte le vostre illusioni. Sono pesantissime. Oggi noi siamo qui perché siamo qui ma domani potremmo di nuovo essere da un'altra parte. E quello che è accaduto nel comune di Scandicci in questi due anni è la capacità di stare dentro l'emergenza, dentro il cambiamento come normalità. Abbiamo inventato un libro della vita online, qualcuno di voi l'avrà visto, poi abbiamo fatto delle cose all'aperto, poi siamo andati nomadi all'Aurora, poi siamo andati al Teatro Studio. Oggi siamo qui. Non è come prima, è come ora. E quello che accadrà lo inventeremo noi da adesso in poi. Noi a Scandicci facciamo così. Roberto Bianchi, grazie per esserci venuto a trovare. Graziano, Graziano della Croce Rossa, per favore, una parola importante perché gli amici della Croce Rossa stanno facendo un lavoro straordinario, hanno fatto in questi due anni un lavoro straordinario e naturalmente stanno dentro un altro cambiamento anche loro. Prego. Buongiorno a tutti. A nome di Croce Rossa Scandicci abbiamo vissuto due anni e qualcosa in modo pazzesco. Una pandemia che non aspettavamo. Ci siamo attrezzati, abbiamo fatto un lavoro enorme, pensavamo di essere un attimino rilassati e adesso invece si ricomincia da capo trasformando di nuovo il nostro essere volontari e facendo un'opera che non ci aspettavamo. Stiamo accogliendo come Scandicci in Croce Rossa dei bambini che provengono appunto dalle zone di guerra, dall'Ucraina. Stiamo accogliendo delle famiglie con delle mamme e arriverà anche il settimana prossimo un'altra famiglia con tre figli e due nipoti che andremo a prendere a Venezia, li porteremo qui a Scandicci e saranno poi accolte appunto sul territorio. Perché queste parole? Insieme a Sandro il sindaco, insieme a Gianni Pompei che è il presidente di Scandicci della Croce Rossa abbiamo deciso invece di... molti di voi ci chiedono cosa possiamo fare per aiutare la Croce Rossa e questi bambini? E molti di voi sanno che potete fare delle donazioni online e tutto questo, ma ci rendiamo conto che a volte il faccia a faccia, vedere qualcosa di concreto è ben diverso da cliccare e dare 2, 5, 10 euro. Per cui chi di voi vuole darci una mano come Croce Rossa a spendere questi soldi, perché alla fine si tratta di fare la spesa, di prendere dei medicinali apposta per i bambini, abbiamo un bambino diabetico che aveva curato con dei medicinali apposta, può venire tranquillamente lì in Croce Rossa da noi in sede, d'accordo? E dare quello che volete, ok? Qui in via Vivaldi, davanti alla ASL, la famosa Croce Rossa che tre anni fa purtroppo bruciò, adesso invece è bellissima, ci stiamo bene e facciamo scuola ai bambini in italiano, perché vogliamo integrarli in qualche maniera. Le nostre volontarie stanno facendo già da 10 giorni scuola in italiano ai bambini ucraini. Potete venire, potete assistere, guardare che cosa succede, è emozionante, è veramente emozionante. Per chi di voi vuoi aiutarci, venga pure da noi, dà un contributo, gli verrà chiaramente data una ricevuta, tutto quello che date sarà effettivamente speso per loro. Grazie. Graziano, grazie a voi per il lavoro che fate. Sindaco, questa è come una nuova inaugurazione in qualche modo, per cui non posso non chiedere una parola. Buongiorno, buongiorno professore. Quando quest'anno, con un po' di coraggio intellettuale, abbiamo provato a rimettere in fila i nomi e le date e i luoghi del Libro della Vita insieme all'assessore Sereni, che stamattina non c'è, ma sarà prestissimo con noi e con Raffaele, con tutti i collaboratori che da ormai molte edizioni stanno lavorando a questo imperdibile appuntamento. L'idea che sotto traccia c'è venuta per caratterizzare con un po' di germe di novità questa edizione era lavorare su delle lezioni di storia. In questi 15 giorni avremo a disposizione due professori dell'Università di Firenze, Roberto Bianchi stamattina e fra 15 giorni Stefano Bottoni. Sia Roberto Bianchi e Stefano Bottoni sono due straordinari insegnanti amatissimi dagli studenti, qualcuno degli studenti di Roberto è qui, laureanti, laureati e dottorandi di ricerca, ma soprattutto la cosa che ci ha colpito perché eravamo inconsapevoli di quello che sarebbe drammaticamente successo e sta accadendo in Ucraina adesso e che Roberto Bianchi ha dedicato una vita allo studio delle cause che hanno portato dalla fine della Prima Guerra Mondiale all'installazione della dittatura fascista, vicepresidente dell'Istituto Storio per la Resistenza in Toscana e ci ha aiutato grandemente nel percorso del centenario delle barricate, molti di voi ricorderanno lo scorso anno. Stefano Bottoni è professore di storia dell'Europa orientale in età contemporanea all'Università di Firenze. Forse avevamo anticipato inconsapevolmente una lettura sul mondo di oggi per cercare di capire di costruire un domani migliore, soprattutto lo riguardo, guardo ai ragazzi che con la storia avranno, hanno e avranno a che fare. Buona giornata e grazie. Grazie al sindaco Fallani. Professor, ci siamo, Roberto Bianchi. Il Roberto Bianchi ci racconta di questo libro di Pietro Nenni, Il Diciannovismo, come l'Italia divenne fascista. Prego. Buongiorno. Ve ne accorgete, sono un po' emozionato, è un onore e anche un onere essere qui per la riapertura di questa iniziativa in questo luogo. Però questa iniziativa per me è stata anche un modo per approfondire la conoscenza con questo comune, il sindaco con Raffaele Palumbo e complimenti a questo comune e averne, come diceva mio nonno, di cose così perché mi sembra importante questo tipo di attività che fate sul rapporto fra presente e passato. Allora, io però devo parlarvi del Diciannovismo di Pietro Nenni e perché si è inserito in questo ciclo del libro della vita. Allora, la storia che vi racconto oggi, sperando che possa essere in qualche modo utile e interessante, è strutturata su tre livelli. Si snoda su tre tempi storici, un po' come il film che ho riguardato recentemente Dunkirk, quello sul 1940, il ritiro delle forze armate inglesi e francesi dal continente europeo durante la seconda guerra mondiale. Maggio 40, ci sono tre tempi, il tempo della terra che dura una settimana con i soldati, il tempo dell'acqua che dura 24 ore, le forze navali, il tempo dell'aria, un'ora, cosa fanno gli aeroplani. E questo film straordinario, però non parliamo del film, parliamo del 1919, io non sono bravo come Nolan, come il regista, il mio racconto sarà più frammentato e meno avvincente, però spero possa risultare chiaro. Quali sono i tre tempi di cui vi parlo? Il 1919, primo tempo. Il 1919 l'hanno richiamato dal titolo del libro, se ne parlerà, dopo vi dico, e poi un secondo tempo è la seconda metà degli anni 20. 1925, 1927, oramai c'è il regime fascista, e Pietro Nenni scrive questo libro che esce con un altro titolo, storia di quattro anni, 1919-1922, poi dopo sarà riedito e diventerà il diciannovismo. E poi il terzo tempo è il tempo presente. Questo scorcio fra anni dieci e anni venti del ventunesimo secolo, quello che è il punto di vista da cui noi guardiamo agli altri due tempi storici, è quello da cui parte il nostro sguardo. E il richiamo non è casuale, perché come mi capita spesso di dire, lo sanno gli studenti che hanno avuto modo, insomma, l'avventura di seguire i miei corsi, la storia non è un qualcosa di scritto per sempre, non è un testo sacro, la storia non è una serie di libri. E forse non è neanche vero che la storia siamo noi, perché siamo noi, ma sono anche loro, sono i morti, sono quelli che verranno. Insomma, la storia ha un rapporto cangiante fra presente e passato, tra le sollecitazioni del presente, quelle da cui, da dove parte il nostro sguardo, e tutte le vicende vissute dall'umanità da quando passeggia e vive su questo pianeta. E oggi parliamo di temi caldi, rapporto fra presente e passato, storia di quattro anni, 1919 e 1922. Che rapporto c'è con il 2019-2022? Si è parlato di centenari, qui a Scandicci avete lavorato molto, poi ci ho partecipato anche io per il centenario delle barricate, febbraio-marzo 1921, il trincerone, e poi il centenario della Grande Guerra, il centenario di Caporetto, il centenario della Spagnola, proprio quando c'è il Covid. Il centenario del dopoguerra, l'ascesa del fascismo, 2021, assalto alla sede della CGL a Roma nel contesto di una manifestazione. Che siamo? Tornati al 1921? C'è un nuovo fascismo? E 1922, la marcia sul Roma, ne parleremo molto quest'anno, fino a esaurimento probabilmente, se io e altri si organizzano convegni, eccetera. Che rapporto c'è con il 2022? E poi lo snodo di quel rapporto fra guerra e fascismo, grande guerra, pandemia di Spagnola, crisi dei regimi, ma anche idea di costruire un mondo nuovo. Il dopoguerra, la pace, cosa fare dopo la guerra, che mondo faremo? Queste erano le questioni di quel nodo e ci sono tutte, in un certo modo, nel libro di Nenni. E oggi? Pandemia, guerra, guerra. E il dopoguerra? Deve finire, durare in eterno una guerra? Dopo non c'è più nulla? Vedremo soltanto una sfera di fuoco? Cantava Francesco Guccini alla fine degli anni Sessanta? Oppure dobbiamo anche pensare al dopo? Ecco, dico subito una cosa che volevo dire alla fine, però me lo voglio dirla ora. Una differenza importante fra quei quattro anni che stavano al cuore a Nenni e i nostri quattro anni che stiamo continuando finendo di vivere, finendo di vivere, questi quattro anni, è che all'epoca c'era tanto sforzo di guardare al futuro, c'era l'idea di costruire mondi nuovi, che fosse il mondo nuovo della terza internazionale, fondata nella primavera 1919 a Mosca, il mondo nuovo della seconda internazionale, quella socialista che si stava ricostruendo dopo il disastro dell'estate 1914, il mondo nuovo del Partito Popolare Italiano, questa nuova formazione politica nata nel gennaio 1919, il mondo nuovo del Presidente degli Stati Uniti d'America, Wilson, che immaginava con i suoi 14 punti un nuovo, poi fallito, ma insomma un modo diverso di organizzare, il mondo nuovo della società delle nazioni. Ma anche i fascisti avevano l'idea di un mondo nuovo, insomma a me non mi piace molto, però c'era, insomma si guardava in avanti, dopo quella catastrofe, dopo la Spagnola, dopo i circa 10 milioni di giovani maschi morti nelle trincee, i mutilati, gli invalidi, i non si sa quante decine di milioni di morti di Spagnola, e ora si guarda in avanti. Ecco, io ho l'impressione che questo manchi, ho l'impressione che manchi questo rapporto fra presente e passato che siamo onco, ma anche il futuro. Siamo stati contenti forse della fine delle ideologie, delle utopie, perché ci siamo accorti nel corso del Novecento che molte di queste ideologie, utopie, quelle del XIX, tutte, quella democratica, cristiana, sociale, quella comunista, quella socialista, quella liberista o liberale, quella fascista, non ne parliamo, in un mondo o nell'altro si sono trasformate o hanno rivelato volti di barbarie, tutte, socialismo o barbarie, e poi socialismo, un certo socialismo che diventa barbarie. Però c'era questa spinta, e ora ho l'impressione che manchi molto, siamo tutti più preoccupati, un po' come alla fine dell'impero romano, cioè di difendere l'impero romano, scusa, questo non lo dovevo dire, perché sarebbe da spiegare, comunque preoccupati di difendere cose che sono importanti. Il fratello di Romano Prodi ha scritto un libro interessante sulla rivoluzione e sull'Europa, Il tramonto della rivoluzione, questo democristiano emiliano, che dice che un limite dell'Europa di oggi è che è fallita, è finita, si esorita all'idea della rivoluzione, che ha caratterizzato la storia europea per secoli. Ora anche questo sarebbe un tema d'altra lezione, e io sto divagando da quello che mi sono scritto, però persino in quell'ambiente lì è interessante vedere come c'è la presa di coscienza, c'è stata la presa di coscienza di un limite. Allora io non è che questo è un invito a progettare rivoluzioni, fare comitati di clandestine, insomma, o cose del genere, non è questo. Sto dicendo che la rivoluzione del nuovo iPhone non ci può bastare, che la rivoluzione della nuova piattaforma multimediale su internet, che io vivo con questi bambolotti sempre in mano, ma non ci può bastare, perché questi quattro anni ci hanno fatti ripiombare nel concreto del rapporto fra uomo, uomo inteso uomo, donna, e asterischi, insomma l'umanità è natura, virus, pandemie, cose molto concrete e la guerra non è una cosa che riguarda, con tutto il rispetto, che riguarda Serbia e Croazia, Slovenia, cioè che sono drammi, cioè quando muore una persona, ogni nostro parente quando muore è un dramma e impieghiamo un sacco di tempo per elaborarlo, però la quantità diventa anche qualità se si fa un discorso generale. Questa guerra in corso è diversa per vari motivi, non vi dico quali perché devo parlare di nenni, però sicuramente quei trent'anni aperti dal 1991 si sono in qualche modo chiusi, quindi ci troviamo in un momento di snodo, di svolta storica ma forse antropologica, simile secondo me a quel periodo fra il 14 e il 22, non è detto che le cose vadano allo stesso modo, non andranno sicuramente allo stesso modo perché la storia non si ripete, però la questione è interessata. Quindi insomma parliamo di temi caldi. E allora la storia serve? La storia serve in tutto questo? Perché voi fate le lezioni di storia in questo ciclo? E non parliamo di libri? Cioè c'è anche altro. A che serve la storia? Serve perché, per non ripetere gli errori del passato, la storia è maestra di vita? Ecco, io su questo sono un po' scettico perché ormai ho studiato gli storici, le storiche del passato. Gli storici non sono persone migliori, ve lo dice uno che di mestieri si occupa di storia. Non è che se si conosce più storia siamo più buoni con le cose, si diventa di San Francesco, insomma così. E' un po' amaro dire questo, ma studiare storia serve per sapere delle cose. E allora dice, ma allora non serve a nulla, ti sta qui un'ora a far perdere tempo. Parliamo di una bella storia, magari inventata. No, perché studiare il passato, fare questi viaggi spazio-temporali nel tempo, più fantastici che guardare un film come Guerre Stellari, secondo me anche Stemigalba, mi piace, Guerre Stellari, ci serve per sviluppare uno sguardo critico, per vedere, per fare connessioni. E quindi per avere uno sguardo critico, criticare le fonti, imparare a smontare certe narrazioni, per le situazioni che viviamo. Però attenzione c'è un rischio, quando noi viviamo una cosa tendiamo sempre a riguardare indietro a quello che è successo e cerchiamo nel passato la spiegazione del presente. E allora, in Ucraina c'è una resistenza con la R maiuscola, sono partigiani, si deve cantare bella ciao, o è una guerra interimperialista come quella del 14? No, è una domanda, non sto dicendo che è una guerra interimperialista, cioè, era una domanda, solo con la voce sono... Grazie. No, no, perché su questo io non ho competenze, però siamo in una situazione estremamente complicata che basta un accento su una parola che io ieri non sono andato in piazza Santa Croce perché dove stavo pensando oggi, ero lì, dicono che dico Romani, sicché ero molto stressato, ma però io penso... Vabbè, comunque non parliamo di questo. Allora, quello che volevo dire è c'è una guerra che si cerca nel passato le ragioni delle posizioni politiche o belliche o bellicistiche del presente e quindi qual è la storia di quel pezzo di mondo dove si combatte? I vari aghi, queste popolazioni che venivano dal nord e che si sono installati lì, fanno parte della storia della Russia, dell'Ucraina, Ucraina, sono tutti uguali e questi sono elementi che stanno nei discorsi dei due governi, delle due parti, e noi si guarda a questa guerra, siamo nel 39, siamo a Monaco 38 di fronte all'ascesa di Hitler che prende i sudeti, eccetera, siamo nel 1914, dove siamo? Allora, ci serve studiare il 14, ci serve studiare il 38, il 39, il 40 e questo ci serve tantissimo, però non dobbiamo rimanere incatenati lì perché ora siamo nel 2022 che è una cosa diversa e come ci insegna studiare il libro di Pietro Nenni, un errore, un errore, è impressionante vedere questi uomini del 1919-22 che hanno a che fare col fascismo e cercano di spiegarlo, che è sta roba, la marcia sul Roma? Non lo capiscono, è un fenomeno nuovo, allora si guarda indietro, si guarda Luigi Bonaparte, si parla di bonapartismo, si parla di cesarismo, qualcuno dice sono tutti uguali, è sempre lo stesso stato autoritario perché a noi ci hanno sempre schiacciato, c'erano i bastonatori quando si faceva sciopero nelle miniere, a Firenze a fine 800 c'è stato un attentato in via nazionale, hanno dato colpa agli anarchici, invece era una bomba pilotata, è sempre la stessa storia, o forse Mussolini era un po' diverso da Giulitti e fra Hitler e Hindenburg era la stessa cosa, allora, se io tornassi ai tempi di Nenni farei un libro molto peggiore di quello di Pietro Nenni, cioè io lo so, mi vedo ora, io sulla guerra ora ho difficoltà a dire cose intelligenti, sono molto incerto e spaventato, però so anche che mio nonno ha fatto quattro figli prima della seconda guerra mondiale e poi ne ha vissute due di guerre mondiali, insomma si sopravvive, però cavoli, siamo persone e come vedete gli storici non stanno nelle torri d'avorio, allora noi bisogna cercare un po', non siamo nelle torri d'avorio, abbiamo questo rapporto vivo col passato e con la storia, però dobbiamo cercare quando facciamo questi viaggi nel passato di collocare, di contestualizzare quello di cui si parla. E allora, cosa c'entra tutto questo con Pietro Nenni e il diciannovismo, questo pistolotto iniziale che dovevo dire alla fine e che ho detto subito, significa dire un'altra cosa, vai che anche questo la dico subito, la storia non ha senso, la storia non ha nessuna direzione, non è già scritta, non è predeterminata, basta guardare, se si guarda quello che, non era detto che scoppiasse la prima guerra mondiale, non era scritto che Mussolini facesse la marcia su Roma e che il re invece di rinchiuderlo in gabbia lo chiamasse a formare il governo, non era detto che si dovessero per forza buttare delle bombe atomiche sul Giappone e i treni per Auschwitz potevano essere bombardati con le maledette ferrovie, perché non sono state bombardate? Allora, scelte di milioni di uomini, la storia non è scritta, non è predeterminata e avviene sulla crosta fragile di un pianeta che vaga senza meta nell'universo. Oioi, questo ci deprime ragazzi, c'era la guerra a casa, ora, poi non c'ho tempo per preparare il pranzo, questo mi butta nello spazio, è un discorso, allora, quando io parlo di queste cose, una volta uno studente mi dice, professore, però, allora, è un invito all'impotenza, alla rassegnazione, preghiamo per chi ci crede, che si deve fare, vive chi vuole esserli esossia perché del domani non va a certezza, no signore e signori e tutti, insomma, è un invito alla responsabilizzazione, la storia non è scritta, chi vuol dire? vuol dire che noi la scriviamo, che le scelte di milioni di individui, i piccini, le formichine e poi anche delle personalità nella storia e poi il caso determinano questa storia che non è predeterminata, non è tautologica, ecco, io credo questo e questo è un invito alla responsabilizzazione e la guerra in corso può essere fermata da un momento all'altro se lo si vuole, così come la prima guerra mondiale non fu fermata dalle decisioni dei capi, fu fermata quando la maggioranza del popolo tedesco decise di fermarla e ci fu un'insurrezione, ammutinamenti, la rivoluzione del novembre 1918 in Germania, nascita della Repubblica di Weimar, le masse che fanno la storia, e guarda sì, non Gabriele D'Annunzio, non il re, sì, il re ha avuto un ruolo, certo, però questo è un invito al senso civile della storia, così come nella Russia del 1917 a un certo punto una parte importante della popolazione fa una rivoluzione e poi fa un'altra, poi sono costretti a fare la pace di Breslitovsk, citata da Putin pochi giorni fa prima dell'attacco all'Ucraina, non a caso quando dice tutta colpa di Lenin era la pace di Breslitovsk, allora, tutte queste formichine la fanno la storia, quindi sì, la storia siamo noi, ma in un modo un po' complicato. Allora, Nenni, Nenni è uno che ha vissuto questa storia da grande protagonista. Questo libro fu concepito, scritto e pubblicato più volte proprio con l'intento di fare un bilancio di quei quattro anni che stavano nel sottotisolo della prima edizione, storia di quattro anni ripeto 1919-1922. Perché lo fece Nenni? Perché era un uomo politico che aveva vissuto in un certo modo quegli anni e perché voleva progettare un futuro, il suo futuro. Ora, noi sono passati cento anni, togliamo Nenni dalla statua, dal piedistallo e lo smontiamo. Se ci riesco, perché poi ho parlato un monte di altre cose, però lo smontiamo per poi ricostruirlo con tutto il rispetto che si deve a queste figure che hanno fatto questa storia. Nenni, lo sapete tutti chi era o forse devo dire qualcosa perché non è che uno studia i libri prima di venire qui. Se avete voglia potete guardare su internet e si trovano i suoi interventi, nei comizi, i suoi discorsi negli anni 60-70. Nacque a fine 800, era romagnolo e morì nel 1980. E quando si sente le sue parole emerge un mondo quasi lontano. dice cavoli ma allora prima chi faceva politica parlava così. Senti tutto lo spessore di quel secolo. È impressionante, è una grande figura quella di Pietro Nenni. Queste persone che ci mettono la faccia, che non aspettano il tweet del capo per vedere come posizionarsi, che ci mettono la faccia e perdono, che so io, una figlia ad Auschwitz perché esiliato in Francia, la terza delle sue quattro figlie, entra nella resistenza francese, si stacca con un francese, presa e muore e muore. Dopo se c'è tempo vi leggo una cosa che scrive Nenni e sulla Fede Nenni Nenni sulla confondo sempre Nenni con Nitti ora vengono fuori gli anni non si sa perché animale politico repubblicano sovversivo partecipa alla Settimana Rossa e interventista nella Prima Guerra Mondiale porca paletta ma perché un sovversivo che fa la Settimana Rossa scattata contro la repressione dei militari che si erano opposti alla Guerra di Libra diventa interventista nella Prima Guerra Mondiale le accelerazioni della storia, l'interventismo una parola su cui in questi giorni si dovrebbe un po' discusere probabilmente e fino all'anni 10 e poi nel dopoguerra che fa Nenni nel dopoguerra? Siamo nel 19 fonda il fascio di combattimento di Bologna come era sovversivo? Eh fonda uno dei primi fasci di combattimento di Bologna poi rompe con quell'area lì nel 1921 diventa socialista e diventerà un grande antifascista guerra di Spagna resistenza, resistenza anche a livello di famiglia, assemblea costituente repubblica leader socialista e io me lo ricordo quando ero piccino andavo a scuola dalle suore a Petriolo Nenni, Leone, Leone Nenni, Nenni, Leone si guardava con le suore lo scrutinio per il presidente della repubblica vinse Giovanni Leone e il democristiano e non Nenni eravamo nei primi nei primi anni 70 ecco Nenni è protagonista di queste storie del novecento ma a noi ci interessa guardare il suo libro allora due parole su questo libro non vi preoccupate non farò tutte le pagine che ho qui perché se no si Raffaele è con lanciafiamme sarà questi napoletani con lanciafiamme durante da Grostetton Giù i dialetti sono tutti uguali ora scusate il testo fu scritto nel 1925 pubblicato nel 1927 sollecitato da Pietro Gobetti col sostegno di Carlo Rosselli su questi nomi insomma non mi dilungo agile intelligente saggio ora vi faccio rivedere la avete l'ultima edizione che intendeva fare questo bilancio dopo la marcia su Roma nel periodo in cui Mussolini sta costruendo il suo regime perché aveva vinto il fascismo di chi la colpa quali errori erano stati commessi come era stato possibile che dopo la vittoria incredibile non sperata forse nella prima guerra mondiale contro un nemico più forte come l'Austria Ungheria il re la classe dirigente liberale c'eressero le redini dello stato a Mussolini ma gli italiani erano diventati tutti fascisti di un colpo allora non era l'unico libro l'unico pamflet su questi temi pubblicato negli anni 20 ce ne sono tantissimi in quel periodo questo ha come e qui mi ero preparato una cosa su questo ma la saltiamo io va segnalato il libro di Angelo Tasca in particolare che ha un significato particolare però insomma questo di Nenni ci interessa perché insomma perché ci interessa ora vi spiego perché era storia di quattro anni diviso in varie parti e il primo capitolo si intitolava Il Diciannovismo l'opera poi è stata riedita e ristampata più volte fino a ora sempre qui avete Il Diciannovismo come l'Italia divenne fascista interessante il sottotitolo perché il progetto perché questo è un sottotitolo da anni 20 del ventunesimo secolo ora l'editore mi ammazza però non è una critica però come l'Italia divenne fascista però il libro di Nenni non è su come l'Italia divenne fascista sì c'è anche quello ma è su perché i socialisti hanno perso qual è l'errore del socialismo del massimalismo socialista è un bilancio critico del campo di cui Nenni ormai fa parte e di cui poi diventerà leader è una cosa un pochino diversa a noi ci interessa studiarlo anche per capire come l'Italia divenne fascista peraltro insomma e lui rimette ordine ah sì questo libro poi riedito in varie modi e poi esce col titolo Il Diciannovismo per l'edizione avanti nel 1962 questo libriccino qui della collana storia del movimento operaio il primo capitolo del libro storia di quattro anni diventa tisolo del libro Il Diciannovismo e lui rimette ordine al susseguirsi di eventi fra fine della guerra e marcia su Roma e quindi seguo rapidamente un po' l'indice le posizioni del Partito Socialista e della CGL sulla guerra e per il dopoguerra le lotte sindacali i moti annonari tumulti per il caro vivere il bocci bocci come si diceva si dice in Toscana lo scioperissimo in solidarietà con la Russia sovietica e l'Ungheria della Repubblica dei Consigli contro la guerra permanente dopo la guerra nel contesto delle guerre civili in Russia lo scioperissimo del 20-21 luglio 1919 la spedizione fiumana di Gabriele D'Annunzio iniziata il 12 settembre il congresso socialista di ottobre con la vittoria schiacciante della corrente massimalista le elezioni politiche di novembre 19 le prime a suffragio universale maschile in Italia nei libri spesso c'è scritto che in Italia si vota a suffragio universale maschile già prima della guerra non è vero è un po' un errore che c'è nel 19 poi se volete vi dico delle donne perché volevano fare il suffragio universale anche maschile e femminile poi non ce l'hanno fatta insomma vabbè prima di passare alla seconda sezione dell'opera sull'abdicazione dello stato liberale e infine alla terza dedicata alla disfatta socialista quindi al centro dell'attenzione c'è appunto questo questo grande questo grande dopo guerra e c'è un confronto che attraversa tutto il libro su dove invece il nostro campo ha vinto questo è Nenni non è Togliatti o Gramsci e dov'è che ha vinto ha vinto in Russia in Russia hanno vinto e qui no come mai c'è questo sotto sotto straccia e Nenni non a caso scrive ora faccio una citazione in quel contesto del cosiddetto piegno rosso nel primo dopo guerra nel 1919 che è rimasto un po' scritto come piegno rosso 1919 1920 che mi conosce sa che io critico questa questa espressione ma insomma possiamo la critico poi se c'è tempo vi spiego perché ma possiamo usarlo ovviamente in quel contesto del dopo guerra quando la guerra si è vinta tutti pensano a costruire un mondo nuovo in Germania c'è stata una rivoluzione in Russia c'è una rivoluzione in Ungheria c'è una repubblica dei consigli in Slovacchia c'è stata una repubblica sovietica viene la città rossa e poi noi sappiamo che in quell'anno 19 in Giappone ci sono i tumulti del riso ci sono insurrezioni in Egitto iniziano gli anni della paura rossa negli Stati Uniti d'America in Spagna c'è anche lì il triennio insomma la guerra tende a globalizzare e a far sì che fenomeni simili attraversino in modo diverso tutti i paesi che hanno vissuto la guerra e che escono dal conflitto ecco in Italia c'è questa crisi dello Stato liberale risorno dei reduci fine della guerra richiesta di mantenimento delle promesse fatte durante la guerra e voglia di un mondo nuovo ci hanno detto durante la guerra che vincere resistere 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 fra il Monte Grappa e Piave dipende da noi soldati a mio nonno li dettero mio nonno era di San Martino alla Palma orgogliosissimo con la cosa del Cavaliere di Vittorio Veneto andava socialista ma poi andava sempre a Red di Puglia il 4 novembre doveva andarci anche nel 66 io avevo 10 mesi pioveva tanto per fortuna non ci andò ci fu l'alluvione nel 66 comunque questi reduci che tornano dal fronte e che chiedono il mantenimento delle promesse la terra ai contadini lavoro pane a buon mercato pane a un prezzo eco lo Stato che ha vinto la guerra non è in grado di mantenere le promesse si chiede la distribuzione delle terre non ce le danno le prendiamo non è una rivoluzione bolshevica ma in quell'Italia del 1919 questa azione di tutte le formichine che hanno fatto la guerra e che gli è stato detto che è importante quello che fanno non solo i soldati ma alle mogli ai figli ai signori di mezza età come sono io a quelli più che tutto il paese come un corpo unico deve vincere perché la nazione non si può dividere e te se scioperi ti tratto come un disertore e questo per quattro anni con lo stato d'eccezione in tempo di guerra un po' come se fosse un pacchetto di mischia di una squadra di rebbi che lì c'è i piloni i tallonatori secondeline terzeline tutti devono andare avanti non può uno spingere in qua e uno in là ma non siamo a perdere con la Scozia nel torneo delle senazioni come è successo ieri siamo nella prima guerra mondiale ci sono tanti morti e la rabbia morale dopo la guerra nel vedere le promesse non mantenute che nel frattempo qualcuno si è arricchito tutto questo fa esplodere quel 1919 allora anche Nenni dice c'è questa energia ma perché i socialisti non la sfruttano loro che si pongono come prospettiva per un mondo nuovo hanno vinto altri in Russia e dà una risposta il partito era impreparato a sostenere sul terreno della guerra civile guerra civile una rivoluzione che c'entra la rivoluzione con la guerra civile con la prima guerra mondiale le rivoluzioni si fanno come guerre civili è un dramma del ventesimo secolo ma è così forse ora sarebbe da ripensare anche questo ma insomma non allarghiamo il discorso sul terreno della guerra civile che predicava essere il logico sbocco della situazione il minimo urto insomma era impreparato a sostenere il minimo urto scusate l'ho letto male scarse male in gamba forze di polizia erano in grado di far cadere una velletà di insurrezione questo in realtà non era così però insomma questo fu il diciannovismo ed esso ci offre la chiave della disfatta ha scritto Leo Trotsky siamo ancora a metà anni venti Leon Trotsky il capo dell'armata rossa il grande uomo che con gli anni progetta e organizza la rivoluzione d'ottobre quello ucciso da Stalin all'inizio della seconda guerra mondiale con una picconata non da Stalin da un uomo di Stalin in Messico all'epoca si poteva usare tranquillamente questo nome senza essere infamati quando ero piccolo a San Donnino se avevi un motorino che funzionava male dicevo andò tu va con questo Trotsky cioè per dire no non so se ve lo ricordate con questo Trotsky e da piccino dicevo chi è questo Trotsky poi lessi il fumetto di Guido Crepas viva Trotsky disse ma chi andava al motorino poi invece no era un altro si chiamava Bronstein comunque ha scritto Leotrosky che se alla fine della guerra non c'è stata in Europa alcuna rivoluzione vittoriosa è perché è mancato il partito il partito in genere dice Nenni non ci si può accontentare di una tale spiegazione ma il giudizio è esatto per ciò che si riferisce all'Italia uno dei paesi vittoriosi che ha conosciuto e conosce tutte le dure condizioni dei vinti e su questo aveva ragione al partito socialista italiano ha fatto totalmente difetto la preparazione rivoluzionaria ed esso si è ridotto così in anni decisivi ad essere una specie di passivo registratore degli stati d'animo e di esasperazione delle masse quindi Nenni fa una critica tutta interna al mondo dei rivoluzionari del socialismo e usa questo termine diciannovismo come il fenomeno il massimalismo parolaio e inconcludente che fa paura al nemico ma non riesce a fare poi una vera rivoluzione come hanno fatto i bolshevichi insomma questi socialisti parlano di rivoluzione fanno tanti discorsi non collaborano però da una parte la rivoluzione non la organizzano e non la sanno fare come si legge dall'altra al tempo stesso non collaborano con le forze democratico-istituzionali che potrebbero ad esempio mettere un freno all'ascesa del fascismo quindi un massimalismo ecco questa idea del diciannovismo come massimalismo impotente è arrivata fino ad ora vi dico subito perché tanto non avrò tempo per seguire tutto lo schema quindi dico rapidamente una cosa se c'è tempo l'argomento meglio dopo che questa infamia sui socialisti massimalisti del 1919 secondo me non è giusta perché se si guarda non è giusta è vero è tutto vero quello che dice Nenni come critica è tutto vero che fanno paura non organizzano non hanno idea questi socialisti di dover fare una rivoluzione per loro la rivoluzione ancora è il quarto stato di Pellizza da Volpedo avete presente quella cosa che c'è alla galleria del museo del novecento a Milano accanto al Duomo dove ci sono quegli uomini e qualche donna che scalzi dalle ombre della campagna vanno verso il sol dell'avvenire l'avete presente a Firenze c'è una riproduzione in piazza dei cionpi che camminano è meraviglioso ma quella è una tela di inizio novecento non c'è ancora stata la prima guerra mondiale quelli sono il quarto stato che vincerà come è successo al terzo stato nella rivoluzione francese ora succede al quarto stato sono disarmati fiduciosi hanno il sole in fronte hanno il sole in fronte e camminano disarmati sono la storia la storia siamo noi dalle tenebre della campagna vanno verso la luce e sono tanti sono una folla ma ordinata ognuno ha una soggettività ha un individuo se si guardano quei volti e quei vestiti si intravedono storie sono vestiti a festa sono persone della campagna ma di grande dignità ci sono anche donne non sono solo uomini donne quasi sempre scalze ci sono dei bambini e in prima fila c'è una donna ce l'avete presente quella donna con il bambino in braccio tutti camminano così e questa donna in prima fila va di traverso e parla dice ma queste donne anche nel quarto stato rompe le scatole sta zitta e cammina tieni il figliolo all'atta sta zitta e si cammina sto scherzando no? si è capito spero perché quella donna va di traverso? perché la contraddizione interna è bellissimo quel coso cioè la rivoluzione nella rivoluzione cioè già si preannuncia un'altra cosa che dovremo affrontare dopo è bellissimo c'è un problema nel novecento non funziona sì la donna di traverso sì in senso positivo come ricchezza interna peraltro comunque non allarghiamoci dopo vi devo dire che nel libro di Nenni non si parla delle donne perché se c'è tempo comunque nel libro di Nenni eh? allunghiamo il tempo grazie io sono ossessionato dal tempo che mi insomma perché è così bello vivere che mi sono girato e dico ma i figlioli fanno 20 23 anni erano ancora piccini sicché sono ossessionato dal tempo anche quando parlo e ora lo guardo sempre inizio a parlare del tempo e non dico quello che voglio dire allora eh grazie comunque questo è incoraggiante allora non dico più nulla del tempo ehm e questo non va bene nel ventesimo secolo perché l'iconografia delle rivoluzioni delle trasformazioni per il ventesimo secolo sarà quella di uomini e donne armati sarà quella della guerra civile spagnola le milizie repubblicane perché dopo il 1921-22 anche in Italia se vuoi vincere con i fascisti non lo fai come lo facevano questi socialisti dell'immediato dopoguerra che non rientra nella loro cultura politica l'arma il partito armato ma non lo dico per dire sono debisti insomma ignoranti lo dico perché erano così e se io ero lì ero come loro non è difficile essere diversi era una forza nata come movimento contro la guerra il socialismo italiano che viene un po' dall'anarchismo e c'è l'elemento dell'essere contro le guerre nel DNA e con il rifiuto di questo e non a caso è l'unico grande partito dell'Europa occidentale che non aderisce alla prima guerra mondiale e non era facile non aderire alla prima guerra mondiale per l'Italia è un po' più facile però non era né invece interventista anche questo va spiegato comunque quando c'è la crisi del primo dopoguerra e poi il primo partito veramente armato che agisce nella storia d'Italia poi ne abbiamo avuti altri ci ricordiamo gli anni 70 Brigate Rosse partito armato ma all'epoca non c'era questa parola il primo partito armato nella storia d'Italia è un movimento che fa capo ai fasci italiani di combattimento che poi diventano partito nazionale fascista nell'autunno 1921 nel novembre ecco in tutta la prima parte di quei primi quattro anni i socialisti non hanno questa idea poi nascerà il primo partito armato antifascista gli arditi del popolo nel 21 ma nascono anche dopo le barricate di Scandicci a Scandicci si è visto non c'era mica l'esercito rosso armato bolscevico per fare la rivoluzione si fa la barricata il trincerone per difendersi dai fascisti che vengano da Firenze accidenti a Fiorentini io sono fiorentino però il mio nonno era di San Martino alla Fala che insomma posso anche fare quello un po' di qua un po' di là questi di Scandicci fanno un trincerone che vuol dire il trincerone? per difendersi non è un'insurrezione offensiva non è la rivoluzione non è la presa del potere bisogna difendersi e poi nel suo farsi questa difesa questa forma di resistenza assume delle caratteristiche che possono anche diventare insurrezionali perché si dice e porca miseria ma qui bisogna ribaltare questo mondo ci ammazzano insomma però viene viene dopo come conseguenza sono i facci di combattimento l'espressione più coerente della brutalizzazione della vita politica causata dalla prima guerra mondiale citazione George Moss per l'esame segnatevelo questo c'è capitolo in un libro di Moss sulla brutalizzazione e allora l'iconografia cambia comunque dicevo questo Nenni ormai scrive questa cosa a metà anni venti laddove si dà per scontato come dice il partito era impreparato a sostenere sul terreno della guerra civile che predicava essere il logico sbocco della situazione il minimo urto non la faceva quindi io dicevo prima questa critica riprendo il filo perché poi se no mi perdo ci si trova all'isola di Capraia e non si sa dove siamo partiti perché non bisogna criticare così in modo facile questa cosa del socialismo massimalista ho appena argomentato la critica ai socialisti su cui ha ragione Nenni ma e gli altri e gli altri che facevano mentre i socialisti facevano i massimalisti lo Stato liberale nelle sue strutture nelle sue articolazioni chi dava la benzina ai camion degli squadristi che rapporto c'era fra soprattutto il settore intermedio dell'apparato statale e i prefetti questori perché non si pensa al re a Mussolini a Giolitti ma la struttura articolata dello Stato liberale va in quella direzione a Firenze alle elezioni amministrative dell'autunno 1920 c'è un blocco dell'ordine antisocialista dove dentro ci sono quelli che sono così con gli squadristi quelli che dopo un mese vanno a ammazzare un contadino nel Mugello Giovanni Sitrialli quelli che poi vengono qua a Scandicci e anticipa Firenze spesso anticipa le cose è interessante e ancora lo fa una città interessante per l'Italia poi noi siamo per la Fiorentina però insomma è interessante perché anticipa il blocco dell'ordine che poi fa Giolitti a livello nazionale alle elezioni politiche del maggio 1921 e Firenze lo anticipa allora quindi i liberali hanno da fare poco i ganzi scusate ma su questo e gli altri i comunisti nascono a un certo punto e fanno parte di questa storia del 1919 il mondo anarchico e narcosindacalista sono pienamente immersi in questo tipo di problemi anche loro e il mondo dei repubblicani da cui Nenni viene ecco una critica anche questo lo dicevo dopo ma lo dico ora vado un po' così a fiume di pensiero penso vada bene lo stesso Nenni nel suo libro che critica i socialisti non ci dice se non gli dice o Nenni e lui o chi c'è e te gli dici ma te tu dici che tutti sbagliavano i socialisti ma te cosa facevi nel 1919 lui fondava il fascio di combattimento a Bologna allora io non dico questo perché Nenni è uno che ha perso una figlia d'Auslitz è uno che ha combattuto io non sono un uomo come lui cioè veramente viene voglia di fare i monumenti a queste persone perché l'ho detto all'inizio però se si legge un libro e si fa una cosa si discute col rispetto sapendo che dopo tutte queste premesse si dice però insomma scusa Pietro una parolina si fa un dialogo quando si studia la storia si parla con morti col passato e loro ci rispondono ora dice che sto impazzito cioè si leggono altre cose insomma lasciamo perdere questa cosa allora Nenni sbaglia perché lui fa un bilancio di tutti però non ci dice fino a un fondo come era facile sbagliare in quel 1919 e su questo c'è un problema è un uomo politico c'è un problema del modo di fare la politica ok ci si mette la faccia si fa la resistenza e lo ripeto perdere una figlia ragazzi insomma cioè vuol dire proprio questi prendono le armi ci vanno non è che stanno su noi su Facebook eccetera insomma sono figure esemplari ecco la parola che non mi veniva sono veramente figure esemplari perché mancano un po' di eroi è giusto togliere gli eroi basta con la storia con i re le regine i generali e gli eroi sì e io la storia siamo noi e le formichine però ogni formichina è un eroe può esserlo perché poi ci sono dei momenti in cui si deve scegliere ci sono delle scelte da fare e in mezzo a tante condizioni si può scegliere in un modo o in un altro e Nanny io credo che abbia sbagliato nel 1919 a scegliere di fondare il fascio italiano di combattimento a Bologna è un'esperienza breve se io penso agli errori che ho fatto nella vita si fa l'enciclopedia a tre cani della vita non una puntata sola lo dico sempre con grande rispetto però bisogna ragionare su questo è un libro di quell'epoca è un pamphlet con intento politico che ha importanza in quel contesto e non a caso quando Nanny parla anche dei movimenti sociali presta attenzione a tante cose oddio presta attenzione a tante cose ma non parla di donne e non perché bisogna parlare di donne l'uomo 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 e la donna di Cosava Benini in Berlinguer ti voglio bene perché per capire quel primo dopoguerra bisogna guardare le diverse soggettività che ci sono in campo e non solo che le donne sono tante ma hanno un ruolo fondamentale nella vita politica di quel periodo di quel 1919 turbolento è pieno di grandi speranze perché sono loro che svolgono un ruolo dirigente in certi momenti la rivoluzione di febbraio in Russia che scoppia inizia l'8 marzo 1917 fa un salto un pochino indietro non è che inizia perché c'è Lieni Noccherenschi o Troschi o qualcun altro che dice oh ragazzi ora si fa la rivoluzione scoppia nei mercati delle grandi città con tumulti di donne con assalti al forno delle grucce tumulti annonari che si trasformano in insurrezione e in rivoluzione e così anche nel 1919 in Italia allora non vi dico sulla fortuna o la sfortuna della parola diciannovismo ma un accenno lo devo lo devo fare perché diciannovismo perché dal dal 1900 dagli anni 20 e poi dalla riedizione di questo libro nel 1962 la parola diciannovismo questo lo devo dire anche se forse non vi interessa però una cosa da linguisti cosa si intende per diciannovismo oggi se si cerca adesso su internet si trovano definizioni un po' più corrette ma fino a pochi anni fa e fino al centenario del 1919 ovvero nel 2019 nel corso del tempo il significato della parola diciannovismo è cambiato profondamente a dispetto del fatto che il significante insomma che la parola è rimasta la stessa allora intanto la parola diciannovismo non l'ha inventata Nenni se si cerca sui giornali dell'epoca era già usata in particolare la usa una vecchia conoscenza di Nenni su questo con cui però poi si fanno la guerra civile che è venito Mussolini la usa Mussolini all'inizio del 1924 in un convegno dei fasci del partito per denunciare quel fascismo delle origini diciannovista appunto irrequieto ormai Mussolini vuole creare il regime in prospettiva c'è l'accordo strategico con la chiesa cattolica con i fatti lateranensi che quando proprio poi il regime diventa bello solido lì la grande alleanza i fatti lateranensi del concordato del 1929 prima della cosa dell'impero insomma ecco Mussolini ha un conflitto politico interno al partito vuole combattere le correnti che ancora requiete che non vogliono integrarsi nello stato in qualche modo e le denuncia come espressione di un diciannovismo la parola poi si ritrova nel primo capitolo del libro storia di quattro anni di Pietro Nenni che poi diventa titolo del libro dopodiché la ritroviamo viene usata di nuovo da Nenni nell'Italia repubblicana ma anche da Palmiro Togliatti viene usata in modo molto corretto io credo da Paolo Spriano uno storico che è un rap che ha morto tanti anni fa ma che ha lavorato a Scandicci peraltro nel 71 per il cinquantenario delle barricate a proposito di barricate e la ritroviamo via via insomma ora lasciamo ferire perché non c'è molto tempo la ritroviamo quando 1977 che è il 77 vi ricordate il 1977 Bologna Roma il movimento del 77 Zangerì Zangerà Zangeriamo la città cioè quel movimento di contestazione giovanile con gli indiani metropolitani l'autonomia opera organizzata che confligge fa botte con Luciano Lama e il servizio d'ordine della CGL all'Università di Roma è un movimento molto complicato quello del 1977 ecco in quel periodo lì la si ritrova ad esempio sull'unità o da sinistra diciamo per indicare il diciannovismo degli untorelli dell'estrema sinistra non inquadrata in organizzazioni politiche che non solo contestano lo Stato e il regime ma che se la prendono anche con il partito comunista considerato compromesso storico che collabora unità nazionale eccetera e poi la parola la ritroviamo ancora quando sale al governo Berlusconi 1994 quindi quest'alleanza manca un minuto insomma la ritroviamo lì e si dice siamo come nel diciannovismo e poi la si ritrova nel centenario del 1919 ovvero nel 2019 quando quando in un contesto di crisi e di difficoltà su scala internazionale di incertezza geopolitica e al momento della crisi del governo Conte 1 vi ricordate il leader della Lega che si chiama Matteo Salvini che beveva non so cosa in un posto di mare insomma e a seguito di quell'evento nell'estate 2019 cadde il governo Conte 1 e poi si è formato il governo Conte 2 ecco in quell'estate che era l'estate 2019 e riemerge la parola diciannovismo per dire siamo di fronte a un nuovo diciannovismo addirittura un diciannovismo globalizzato per dire cosa per dire che che praticamente siamo in un momento di incertezza sul futuro ma anche che ci sono dei movimenti sociali come dire privi di prospettive c'è populismo in Francia c'è stato il movimento dei gilet gialli qui ci sono fenomeni di contestazione e di conflitto sociale privi di prospettive c'è un antiparlamentarismo c'è il rischio di un'eversione come nell'altro io credo che nel 2019 non si fosse stato in una situazione diciannovista però di questo possiamo parlare dopo quando è finito voglio parlare io devo parlare del 1919 ebbene il 1919 era più vicino a quello che ha scritto Nenni anche se le critiche vanno fatte che ha quello che è diventato un 1919 immaginario del diciannovismo che si trova sui giornali con tutto il rispetto ai giornali o su internet perché nel 1919 in quel dopoguerra e qui ora chiudo il cerchio in quel dopoguerra c'era anche antiparlamentarismo c'era anche molto disordine sotto il cielo ma perché le rivolte gli scioperi tumulti le crisi sono fatti da uomini e donne sono gente di carne prima di lavarsi non abbiamo un buon odore a volte non c'è tempo per farlo non siamo dei santi quindi emerge sulla scena pubblica quelle masse quelle formichine che non necessariamente sono tutte brave persone o sono dei San Francesco o delle Sante Caterine da Siena sono persone normali e intendono far valere i loro diritti e intendono farli valere magari facendo pagare tutti i soprusi che hanno avuto nei secoli precedenti c'è memoria di come stava il nonno di quel padrone del padrone del feudo nel sud o del fattore amico del proprietario che a mio nonno mezzadro non gli ha fatto sposare la figlia e cose di questo genere e ora finalmente esplodono tutte queste cose perché siamo in quel dopoguerra c'è l'irruzione della massa sulla scena pubblica e allora si prova anche a far pagare questo le rivoluzioni non sono un pranzo di gala questa non è mia sta citazione si ritrova anche all'inizio di un film di Sergio Leone fra l'altro comunque a parte questo però sono l'emergere lo schiudersi anche di allora se si guarda a quel 1919 dentro queste azioni che ci possono piacere o non piacere c'era sempre un elemento di razionalità quelle formichine che si muovono e che fanno sentire la loro voce e che noi ora come storici possiamo sentire la loro voce proprio perché si sono mosse perché altrimenti di quegli anni si trova la voce dei D'Annunzio dei capi politici dei re quanto si studia D'Annunzio era uno e tutti gli altri 36 milioni d'Italia perché non si studiano ok ha scritto le cose belle però per capire l'Italia dell'epoca bisogna vedere tutte le formichine queste formichine emergono sulla scena proprio perché c'è quel 1919 che non è il diciannovismo immaginario ma che è un momento di straordinaria affermazione di identità individuali e collettive non solo per rivendicare i diritti dopo la prima guerra mondiale dopo la spagnola dopo i mutilati dopo il legal castello facce rotte dopo tutto quello che è successo ma anche per costruire un mondo nuovo non ci riuscirono però è proprio bello vedere come provarono a farlo grazie 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 a Roberto Bianchi grazie a tutti grazie davvero Roberto per essere stato con noi ci vediamo fra due domeniche con Stefano Bottoni per cui non mancate sempre qui all'auditorio di Scandici sempre con il libro della vita buona domenica grazie a tutti grazie grazie bella bella palla grazie a tutti